Buon pomeriggio a tutti amici di Everiae.it Mentre sistemavo due fili che mi davano fastidio Vi do il buon pomeriggio E vi do il benvenuti e bentornati, ben ritrovati alle live di Everiae.it Più precisamente a One Man Army Mentre aggiorno la pagina di Twitch per verificare che tutto sia come deve essere Prima di introdurre tutta quanta la situazione E abbasso anche un pochettino il volume di gioco Perché mi sembra esageratamente alto Così dovrebbe essere meglio Vi dicevo siamo live, siamo ufficialmente live E vi auguro il buon pomeriggio Allora buon pomeriggio a tutti Bentornati ancora una volta alle live di Everiae.it su One Man Army La trasmissione condotta da me Che si occupa ormai da tanto tempo E i più affezionati lo sapranno Di illustrarvi, di parlare e di giocare I maggiori FPS In voga attualmente sul mercato Spezziamo un pochettino la classica programmazione di Destiny, Call of Duty e anche del multiplayer canonico di Halo Perché oggi siamo qui per parlare del secondo gratuito DLC Che poi non è un DLC ma è una patch Introdotta in Halo 5 Guardians Che è stata Introdotta ieri pomeriggio E che prevede una serie di nuovi contenuti Gratuiti E ripeto gratuiti Che tutti i giocatori in possesso di Halo 5 Guardians Potranno utilizzare Da ieri in poi Era una patch discretamente attesa Perché Introduce diverse cose interessanti all'interno del gioco Una di queste fondamentali Che è la fucina Di cui parleremo successivamente Quando saremo un pochettino di più Intanto Cage Se ci sei Batti un colpo Perché ti devo chiedere assolutamente un favore Prima di partire Intanto ragazzi Io vi lascio subito Nei commenti Anzi nella chat Quello che è l'articolo Uscito ieri su EvryEye O meglio la News Che vi fa un recap Ehm Più specifico E al quale All'interno del quale Ci sono anche diversi link Che potete andare a consultare Che parlano appunto di questa patch Che è la patch Cartographer Gift Il regalo del cartografo Cage Niente ti volevo chiedere Allora Io ho già messo Nell'impostazione della chat Diverse parole bannate Per evitare spoiler di Star Wars Nel caso ci sia qualche furbacchione Che riesce ad aggirarli Pensaci tu Fammi questo favore Perché c'è già una serie di persone Che si Che si divertono Spoilerarmelo Sono riuscito a evitarli tutti Se riesci anche tu Ad aiutarmi in questo Mi fai un favore Non trasformi questa live In un incubo Perché ho il terrore Comunque sia Dicevamo Patch del Cartographer's Gift Ovvero Il regalo del cartografo Che Inietta All'interno Di Halo 5 Guardians Una serie di contenuti Discretamente interessanti Li leggiamo in modo Di da scalico Proprio Presi pari pari Qui dal Dall'articolo E poi andremo a sviscerarli Un pochettino In maniera più Specifica Allora Introduce una serie di armature Tra cui la Mark IV Generazione 1 Il set di armature Raijin Quattro No Cinque diversi tipi Di rocket Differenti Che potranno essere droppati Con il solito sistema di ottenimento Delle carte Una Due Tre Quattro Quattro mappe nuove Divise tra Warzone Arena E Big Team Battle Più precisamente Overgrowth Battle of Noctus And Top Dead Anti-Freeze E Una nuova animazione Per le uccisioni E la playlist social Non classificata Per la modalità arena E Big Team Battle Cosa vuol dire? Ve lo spiegherò a brevissimo Intanto La La novità più grossa E assolutamente più attesa Da quella che erano i giocatori Più hardcore Di Halo 5 È sicuramente E dico sicuramente Senza proprio possibilità Di discussione La fucina Che cos'è la fucina? La fucina è una modalità O diciamo Una sorta di Modalità interna Ad Halo Che permette L'editing Di mappe Di tutte le mappe Presenti All'interno del videogame È una cosa che È veramente utile Perché permette Alla community Di interagire Proprio in maniera Fisica Con il gioco Andando a Modificare Proprio a livello Completo Qualsiasi mappa di gioco Per poi successivamente Salvarla E renderla Disponibile Per tutti gli altri giocatori La fucina La trovate Tranquillamente qua Nella modalità Multiplayer Vedete A fianco a cinema E partite personalizzate E adesso andremo A sviscerare un pochettino Intanto Ciao Ricky Che mi chiede Un buon headset Sui 100€ Per Xbox Guarda Ricky Sinceramente Non saprei dirti Io uso Utilizzo Le Astro A40 Pro Se non sbaglio Le A50 Ora non ricordo Costicchiano Molto di più Sui 100€ Non saprei Dovresti trovare qualcosa Mi sembra di Razer O Turtle Beach Se posso dirlo Ormai l'ho detto Comunque sia Vatti a fare un giro Non saprei dirti Non saprei consigliarti Nulla in specifico E penso che non posso Neanche farlo In questa sede Magari scrivimi in privato Ne possiamo parlare Dicevo La fucina Che è un editing Interno ad Allo Che permette di andare A modificare E creare le tue mappe Come dice qua L'intestazione In modo tale Che poi Siano disponibili Per chiunque Dettagli Fucina Punteggio Vittorio Insomma Possiamo andare A modificare Qualsiasi cosa Vedete Potriamo scegliere Tra tutte le mappe Disponibili Che sono queste Appunto Comprese quelle nuove Ovviamente Antifreeze Di cui dicevamo prima Overgrowth Eccetera Eccetera Non è facile da usare Vi anticipo Non è una cosa facile E alla portata Di chiunque Tant'è vero che Mi viene in mente Che alcuni creator Proprio Di fucina Poi successivamente Gli anni Sono stati assunti Da associazioni Professionistiche Come MLG Che è la Major League Gaming All'interno della quale Andavano proprio Ad editare E modificare Le mappe In base ai settaggi Competitivi del gioco Quindi non è una cosa Da tutti Ve ne renderete conto Tra pochi secondi Quando la starteremo E vi farò vedere Di che cosa si tratta Per capirci Proviamo per esempio A startare Una fucina Su plaza Qua possiamo Selezionare La squadra Di riferimento Ok Mettiamo squadra verde Così a random E avviamola Vi avviso che io Non sono minimamente In grado Di utilizzare la fucina Proprio perché Non è una cosa Per tutti Quindi la vedremo A livello abbastanza Superficiale Perché non ho Le capacità E le competenze Per andare ad approfondirla È proprio un software Interno ad halo Possiamo definirlo così Che richiede Molta conoscenza Proprio del software Sesso E anche delle mappe Perché ovviamente Se ci mettiamo Ad editarle così A cazzo Possiamo farlo Ovviamente Però non è proprio Quello lo scopo Della fucina Adesso vedrete Che è veramente Veramente una cosa Molto bella Interessante E se avete del tempo E siete degli smanettoni A cui piace Lanciarsi su questi Tipi di contenuti Ve lo consiglio Perché è indubbiamente È indubbiamente Una cosa divertente Semplicemente La fucina Ci permette Di visualizzare Una mappa 3D Ok Dell'intera mappa Appunto Guardate Oppala Abbiamo raggiunto Il limite di altezza Ancora una volta Mi scoppiano le cuffie Vedete che possiamo Liberamente Girare per la mappa E andarne a Modificare Ogni aspetto Questo è il Respawn Per esempio Vedete Segnato come punto Di generazione Iniziale Ciao Simone Intanto Possiamo modificare Il respawn Possiamo modificare Il respawn Delle armi Questi sono tutti I vari punti Di respawn In seguito Alla morte Quindi questo Diciamo che è il punto Di respawn Iniziale A start A game Iniziato Questi sono i punti di respawn In cui potete Spawnare All'interno della mappa Possiamo andare a modificare Tutti questi valori Assolutamente Vedete che A sinistra Abbiamo una tendina Che adesso andremo a leggere Che ci permette di effettuare Un salvataggio rapido Tramite Il La levetta a sinistra Possiamo muovere La visuale Premendo Gli analogici Possiamo modificare La velocità A B Serve per muovere La visuale In alto In basso X Quando siamo su un oggetto Ci permette di Aprire le opzioni A tendina Vedete Proprietà oggetto Possiamo modificare Qualsiasi cosa Ragazzi Larghezza Generazione Rigenerazione Lo script Qualsiasi Qualsiasi Cosa Possiamo modificare Il filtro Di luci Della mappa Vedete Terremoto Che è tutta Terremolante In questa maniera Un filtro Profredo Un filtro più caldo Nova Astro Lavato Migliora Qualsiasi Tipo Di cosa E guardate Quanti ce ne sono Cioè C'è Un Veramente Una libreria Di contenuti Utilizzabili Che è Impressionante Ok La nebbia Vicino all'oggetto Di restura Possiamo modificare La nebbia Lontana Le ombre Il vento I decoratori I colori di riferimento Qualsiasi Cosa Come dice Jack Auditore In questo momento È abbastanza Complicato Come vi avevo Introdotto io All'inizio È proprio per questa Complicatezza Che rende Il software Che è praticamente Un software Parliamoci Abbastanza Di nicchia Da utilizzare Ok Anche giocatori Un pochettino Più hardcore Come me Che si Ci mentano In una cosa del genere Rimangono Totalmente Spiazzati Totalmente Disorientati È normale Ragazzi Adesso Doverci Mettere qui A farvi vedere E a spiegare Tutto quanta La fucina Uno Non sarei in grado Secondo Penso che perderemo Veramente 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 Le ore Ci sono Come vi dicevo Prima Persone Che lo fanno Anche di mestiere Oltre che per passione Quindi è una cosa Assolutamente Settoriale Così come In fin dei conti Lo è È il multiplayer Di Halo 5 Come avevo parlato Nel mio articolo Anzi no Il mio articolo Di Halo 5 Non è uscito Scherzavo Doveva uscire Ma poi non è uscito Per altri problemi Di programmazione Lapsus Dicevo In quest'articolo Io definisco Halo 5 Un gioco settoriale Per quanto riguarda Il multiplayer Di nicchia E questa opzione Di fucina Semplicemente Lo conferma Ok Anche Cioè Si può modificare Veramente Qualsiasi Stramaledetta cosa Adesso Provando ad andare Un pochettino A spippolare Come si suol dire Il vento Direzione Cioè guardate Voi pensate che Attivando il vento Si attiva il vento E basta No Direzione X Direzione Y Direzione Z Cioè veramente Una cosa Complicata Ma secondo me Assolutamente Assolutamente Straordinaria Che I giocatori di Halo Più accaniti Sicuramente Apprezzeranno E io lo apprezzo Tantissimo Perché una cosa Del genere Su console Oggigiorno Anche se La fucina Del precedente Halo Era una cosa Simile Ma questa È molto più Molto più articolata Molto più complessa E richiede Veramente Capacità Ok Capiamoci Mi piacerebbe Essere un pochettino Più in grado Per farvi vedere Le Le implicazioni Proprio Concrete Della fucina Purtroppo Non siamo in grado Mi limito a dire Che se avete voglia e pazienza Di applicarci Di applicarvi All'interno di questo software Interno Ad Halo 5 Di sicuro Avrete delle soddisfazioni Penso che usciranno Miriade Miriade Di tutorial Su youtube E sulla rete Per riuscire Ad utilizzarla Quindi Non preoccupatevi Se volete diventare Dei veri esperti Di fucina Armatevi di pazienza Capacità Fantasia E inventiva E riuscirete Tranquillamente A cavarci Qualcosa di buono Come vi dicevo Oltre Alla fucina Che è la novità Sostanzialmente Più interessante Sono state Introdotte Altre cose Di che cosa sto parlando Oltre a delle mappe In warzone È stata finalmente Resa pubblica E quindi Cosa vuol dire pubblica Fuori dal sistema Di ranking interno Di multiplayer arena Quindi multiplayer Competitivo di Halo La modalità Big team battle E anche Poi c'è questa cosa Holiday social Di cui parleremo successivamente Big team battle È La modalità 8 contro 8 Che Ha un sistema Di matchmaking Che vi farà giocare Diverse modalità Come potete leggere Slayer Capture the flag Strongholds 4 teams 8 on 8 Quindi 8 contro 8 Fino a poco tempo fa Aveva un sistema Di ranking interno Che è quello che potete vedere Per esempio Su SWOT Il tuo grado Nella playlist È quello Il sistema di ranking Che aumenta O diminuisce In base alle vostre vittorie Questo big team battle Invece è stato escluso Da questo sistema In modo tale Che possa essere giocato Così molto semplicemente Molto in relax L'holiday social È una modalità Appunto Social E holiday Che prevede Non Rilassatezza Diciamo così Relax Divertimento Come dice appunto Lady Dascalia Che ci permetterà di giocare Un mix Di Modalità Non classificate Including Slayer And sniper Happy holidays Available Until 1.4.16 Quindi Abbiamo tutte Le informazioni Le nuove modalità E le novità In halo Sono marcate Con questa stellina gialla Al fianco Appunto Del nome Della modalità E io direi Visto che abbiamo Un'oretta Oggi pomeriggio Non di più Di andare a sviscerare O meglio Di giocare Un pochettino Questa big team battle Che l'ultima volta Non ero riuscito A farvi vedere Per ovvi motivi Per mancanza di tempo E altre cose Vedete che tra l'altro Nel pacchetto promozionale C'è l'emblema Uh 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 Fermi tutti Ok 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 Ho creato il party In modo tale Che non ci sia La voce Degli altri giocatori In sottofondo Dicevo Big team battle Che non vi avevo Fatto vedere Sì esatto Cage Fino al 4 gennaio Mi sono dimenticato Di tradurre Le date Americane Big team battle Che non vi avevo Fatto vedere Per questioni di tempo E anche perché Non eravamo 8 E anche perché L'ultima live Che feci su Halo 5 Big team battle Era incluso Nel sistema Di ranking Di arena Quindi non mi sembrava Il caso Tra virgolette Di Andarla a giocare In quel momento Adesso invece Semplicemente Public C'è Moltissima gente Che ci gioca Giustamente perché È molto divertente È 8 contro 8 Mio dio I tasti di Halo Aiuto Oh il BR Già equipaggiato Che figata E vi dicevo È una modalità Che è molto 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 divertente Anche se adesso Sto trovando gente Che Campera All'inverosimile Il fatto che sia 8 contro 8 Questo è un team Deathmatch Classico Per capirci È molto divertente E la rende Molto social Quindi cosa faremo In questo retta di diretta Giocheremo A big team battle Sostanzialmente E risponderò Alle vostre domande Inerenti Al A questo A questa patch Del cartographer Gift 10 secondi Al fucile A reagenti Doppio assist Intanto Mentre Riprendo un attimo Familiarità Con i comandi Familiarità Con i comandi Di Halo Se avete qualche Domanda Da farmi Inerente Non solo Anche al DLC Ma A qualsiasi cosa Di Halo 5 Fate pure Lui non muore E' un ottimo modo Anche Questa cosa Dell'averla esclusa Dal Dal sistema Di ranking Per permettere A tutti quanti Di prendere Magari Confidenza Con quello Che è Il gameplay Di Halo 5 In una modalità Che comunque Prevede Impegno Anche se E' pubblica Però Non giocate Con l'ansia Di dover Per forza Vincere Ciao Giuseppe Benvenuto Lui non ne vuole Sapere di morire Perfetto Oddio Morto In una maniera Orribile Ciao Kree Benvenuto Ho l'incubo Delle granate Io che Mi uccidano Ah infatti Ecco qua Chi è che T'ha Informato Del soprannome Caracas Giuseppe Per me Merita Questo Halo Jack Si Assolutamente Dipende Sempre Che cosa Cerchi Tu Da un Videogame E da Un FPS Chi gioca E compra Adalo Deve essere Consapevole Che tolta La campagna E Le modalità A playlist Pubblica Quindi che Non hanno Un ranking Interno I giocatori Il 90% Di giocatori Che gioca Adalo Sono giocatori Hardcore Competitivi Ok E Ciò vuol dire Che se tu Magari Casual gamer O Giocatore Semplicemente Che vuole divertirsi Pensi Di poterti Lanciare In un'arena Non è così Perché semplicemente Ti passano sopra Come dei card armati La modalità Warzone Che è una Delle Tante novità Di questo Halo 5 Guardians È Assolutamente Il giusto Compromesso Tra Un Player Hardcore E un player Che vuole Semplicemente Divertirsi E ne vale Assolutamente La pena Quindi Qualsiasi cosa Tu Per qualsiasi motivo Tu lo compri Sappi che riuscirei A divertirti Ovviamente L'endgame Di Halo È più votato All'arena Che a Warzone Secondo la mia Persona L'opinione Ma Comunque sia Giocando Warzone Poi Uno acquista Anche le capacità Per potersi cimentare In arena È tutto fatto Apposta E studiato Sapientemente Secondo me Da Da 343 Quest'anno Quindi Assolutamente Io Halo 5 È un gioco Che consiglio A chiunque Poi A proposito di Halo Quando si saprà Il vincitore del concorso Questo non lo so Rick Non chiedere a me Buon pomeriggio Luca Joe I played my first Halo game Ever last night Someone please can help me With customizing my loadout Can you do this or not Be used to play Code where you can Joe So Thank you Thank you for the question First of all If you want I can show you The menu Of the editing Of your Spartan And maybe If you have any More specific question To ask me About the customization I would be glad To answer you With any problems Without any problems Ah questo E muore Si Devil Assolutamente Basta un po' Di pratica E anche se non Eccelli Puoi divertirti Anche in arena Però il sistema di ranking Secondo me Può essere Uno scoraggiamento Per i giocatori Meno capaci Perché poi A furia di perdere Comunque sia Vedi il tuo rateo Misero Vedi il tuo rank Bassissimo E quindi ti Ti scoraggia Diciamo che un ottimo Training Per prima di affrontare L'arena E appunto Queste modalità pubbliche Come può essere Big Team Battle In questo momento Ma anche la modalità Warzone Che seppur Ha dinamiche diverse Dell'arena Perché gli scontri In arena Sono tutti close range Quindi vicini Gunfight Chiamiamoli così Warzone Invece un pochettino Più dispersiva Però È un ottimo metodo Per poter prendere Confidenza Con il feeling Generale Del gioco Ecco Questo è Poi La mia Deformazione È che Quando parlo Di FPS Li guardo Sempre con un occhio Al lato più competitivo Del genere Ignorando magari Tante volte Che ci sono modalità Come Warzone O questo Big Team Battle Che sono per tutti Però secondo me Halo Esula da questa mia Soggettività Ed è proprio Nasce con uno scopo Più hardcore Il multiplayer Questa Warzone Che hanno introdotto Quest'anno È un ottimo compromesso Tra Tra gli hardcore E i giocatori Che si definiscono Casual Ma che Sono semplicemente Giocatori normali Cerchiamo di capirci Intanto noi Continuiamo qua I nostri gameplay In Big Team Battle Assolutamente In tranquillità Grazie a tutti Rick se qualcuno di voi nomina la parola Star Wars per più di due volte Cage vi banna Quindi ve lo dico adesso E non ve lo dico più Già un altro ragazzo l'ho nominato Alla seconda volta che nominate una cosa del genere vi permabagniamo Giusto Cage confermi? Sì non è argomento di discussione Star Wars perché tante persone devono ancora vederlo Quindi fatemi la cortesia di non dire nulla Sono abbastanza irrascibile sulla questione Yuri ti ho dato un indizio facile facile per capire cosa so di Caracas Due perugini Ah ok eh mannaggia i morlo Base rossa sotto controllo Abbiamo perso la base blu Inbraccio l'inceneratore Primo assalto Doppia uccisione Cecchinato A distanza I nemici hanno conquistato la torre La squadra nemica segna Hai perso il comando Aia Madonna mia si cecchini No non ce l'ho Rainbow Six Cage Non ce l'ho Ciao Enzo benvenuto 20 punti per la squadra nemica Ecco parliamo un attimo del risvolto negativo di Big Team Battle che sta iniziando già a farmi spazientire in una maniera Alquanto Importante La gente campera e gira sui veicoli Si il framerate di Halo è assolutamente Una goduria Oddio non adesso che mi ha laggato qualsiasi cosa però Questa continua a distruggermi Con questo cazzo di fucile Niente Guarda era un altro punti Un altro punto che ho affrontato nell'articolo di Halo 5 E' appunto il framerate Che oggigiorno per un FPS secondo me il 60 Deve essere la base da cui partire Per creare un buon FPS su console Oggigiorno ormai è un must E veramente Halo come COD Sono una goduria i 60 frame Si Halo ovviamente Ho un feeling Nettamente diverso rispetto a un Black Ops 3 Però il framerate è lo stesso Ed è un piacere Assolutamente Base blu sotto controllo Cannone a incenerimento Tra 10 secondi Cannone a incenerimento pronto Abbiamo perso la base blu Il nemico ha il controllo total Base rossa sotto controllo E poi qualcun altro Sta succedendo qualcosa di strano Ok Squadra nemica Vicina alla vittoria Abbiamo perso la base rossa Il nemico ha il controllo totale Abbiamo conquistato la torre Si è palesemente la connessione di qualcuno Squadra nemica Avvicina alla vittoria Piattaforma armi 10 secondi Dai continuo ad essere investito da Veicoli di ogni genere natura Mi hai rotto le palle Questa cosa E dai Questo ghost Il nemico ha conquistato la torre La squadra nemica Madonna Provo a prendere un veicolo Non amo particolarmente l'uso dei veicoli Negli fps ma anche in halo Però ci provo Tipo saltando addosso No Niente Ci vuole un cappellino per le prossime Natalizie Per le prossime live Se volete mi metto la maschera di Darvader Che ce l'ho qua in questo momento Però non vedrei più una cippa E quindi non mi sembra il caso Quello è l'unico Facciamoci un po' di holiday social È l'unica cosa che potrei indossare Anche perché cappellini natalizi Non ne ho a portata di mano Cambiamo un po' da big team battle Andiamo in holiday social Intanto apriamo pacchetti a random Che ho qua sparsi Bello questo emblema Il cappellino aumenta la skin Regali improbabili Volete vedere la maschera? Ve la faccio vedere Un attimo Eccola qua Questa è molto bella Guardate imbossata Poi vabbè È un po' più complicata da indossare Però è questa qua È veramente bella All'interno anche I cuscinetti Per non sudare degli occhi Quindi è Straordinaria E ho ordinato Quella di Kylo Ren Sul sito della Disney Quella ufficiale Proprio che modifica Anche la voce Quindi per farvi capire Questa maschera è straordinaria Andrebbe pulita un pochettino Però è meravigliosa Bene massacro Abbiamo uno sniper In mano E un pompa Come una doppietta Oh Oh zio Headshot Ehm Abbiamo il radar disattivato Quindi Mi piace Mi piace particolarmente Questa Questa modalità Headshot baby Madonna se c'ho C'ho la mira calda Oggi raga Bene Centrato Uno in meno Contatto Fuoco nemico Ho colpito la testa Oddio Ragazzi se mi usciva Se mi usciva Quel quick Quick scoop Uh grande Headshot Eh lui di ponto Tra l'altro A metà dell'opera Un pochettino Un pochettino Un pochettino Oddio Non è in testa Dai Lazzino Da dietro Vedete il colpo com'è Comunque ha tutta una sua fisica Il colpo del cecchino Non è semplicemente Bisogna proprio prevedere i movimenti Anche è bello per questo Sì assolutamente Giuseppe E The Division Sarà uno dei titoli Che porterò Maggiormente Qua su Su every eye E su one man army Nel 2016 Nel 2016 Assolutamente Ma anche far cry Primal Insomma tutti quanti Gli fps Più importanti Che usciranno Li faremo vedere E ve li farò vedere E ve li farò vedere Bello che stai Purtroppo non ho provato l'alpha Di The Division Ma per questioni di tempo Ma proverò la beta Oh Proverò la beta sicuramente E nel caso si potrà streamare Ma quasi sicuramente si potrà Ve la farò vedere qua Su one man army Assolutamente Allora ve lo anticipo Quello che Non so se poi Mi sarà confermato Però è un'idea Che mi sto facendo E magari avere già Dei primi feedback Da parte vostra Potrebbe aiutare A far sì che questa mia idea Passi o meno Mi piacerebbe Prendere degli fps Come per esempio Far cry primal O anche The Division E farne la campagna Walkthrough Qui in streaming Ovviamente parallelamente A delle live Dedicate a multiplayer Come queste Come quelle che faccio sempre Però mi piacerebbe Creare proprio Una serie walkthrough Della campagna Single player Di fps Come far cry per esempio Che lo merita Indubbiamente Come magari Quella di The Division Se sarà single player E non per forza In cooperativa Insomma Una cosa del genere Se vi può interessare Come progetto Come idea Ditemelo che Ovviamente Tengo conto Del Verrà Tenuto conto Del vostro gradimento La beta di Doom Non l'ho provata E insomma Non perché non ce l'avessi Ma perché ero via Non ho potuto provarla Sì ok The Division Ha un third person shooter Però rientra Nella categoria Di giochi Che farò E che tratto io Non l'ho specificato Scusate Anche quantum break Per esempio Sarebbe una di quelle cose Che avrei piacere A fare Assieme a voi Per esempio Grazie Jack Il mio canale YouTube È una cosa che porto avanti Parallelamente Al mio lavoro Qua su EveryEye Ed è una cosa Che non so Se nel 2016 Continuerò A fare Come sto facendo ora Ho anche lì In mente dei progetti Per modificare Un pochettino La natura Il mio canale YouTube Ma sono cose che Decisioni che prenderò Solamente in maniera successiva A questa Prima impressione Per Kojima Che lavora per Sony E poi Ti allego Anche un'altra First impression Io sono veramente Contento Che Kojima Lavori per un'esclusiva Sony A patto che Sony Lo faccia lavorare Come lui vuole Ok Perché sappiamo che Probabilmente con The Phantom Pain È successo qualcosa Tra Tra Kojima E la casa di produzione Quindi Qualcosa è andato storto Forse a livello di rapporti Tra i due E questa cosa Si è Uh Era in testa Si è riflettuta anche nel prodotto finale Quindi se Kojima Lavora come vuole Probabilmente Sarà una Gran Notizia Per tutti i possessori Di una PS4 Che Kojima Lavora Non stia lavorando Perché sta già lavorando Ha un IP esclusiva per Sony E inoltre Ho letto anche Che Konami Sta cercando Personale Per lo sviluppo Del nuovo Metal Gear È una notizia di oggi E quindi Anche questa Sono due facce della medaglia Chissà che cosa Hanno in mente Che tito Che tipo di gioco Hanno in mente Se magari una cosa simile a Rising Un sequel di Rising Un sequel di Rising Non lo so Non lo so Non lo so Faccio fatica a immaginarmi Un capitolo canonico Della saga di Metal Gear Senza Kojima Ecco Però Metal Gear E Kojima Sono tra le cose Che amo di più In assoluto Del mondo videoludico Quindi Insomma Non può che esserci Attesa E felicità Per questa notizia E speranza Soprattutto E il problema Vedremo se Ubisoft Mi riferisco a The Division Vedremo se Ubisoft Riuscirà a fare un prodotto Con delle basi solide Perché The Division Ne ha l'assoluto bisogno Con delle basi solide 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 Sì la sezione pvp ci sarà E sarà penso anche una delle anime Una delle componenti più importanti Della produzione Ma quanto camper ha la gente in sta modalità Ah Bene Eh beh lo sviluppo di Silent Hill Non si è più saputo nulla Quindi non saprei rispondervi in maniera concreta Se non solamente Ipotetica Per quanto riguarda Far Cry Questo è un kill facile Per quanto riguarda Far Cry Scusate che leggo la domanda Non so Non so neanch'io Se ci sia una Una modalità cooperativa Non ne ho idea Oddio Oh 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 Ui scusate Beh Enzo Vedremo Vedremo A che punto Anche Ubisoft Ea della lavorazione del titolo Perché ovviamente pubblicano una beta Ma secondo me sono un po' più avanti Rispetto alla beta Nel processo All'alpha scusate Del processo produttivo Le prime impressioni Non sono super positive Vedremo E speriamo Che questa alpha Sia servita proprio a questo Cioè per raccogliere dei feedback E sistemare quello che c'è da sistemare Speriamo Speriamo Eh sarebbe molto bello Giuseppe Sarebbe bello Assolutamente Speriamo 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 Ma scusa Ma quello lì Siamo scarsi tutte e due O non gli arrivano i colpi in faccia a lui Eh no Non gli arrivano i colpi For Honor Sì anche Lo sto discretamente attendendo Da quello che è stato fatto vedere Sembra molto divertente Anche il Il concetto generale Il concept Sembra Sembra veramente carino Veramente Veramente Carino Bene ragazzi Abbiamo circa altri dieci minuti Dopodiché ci salutiamo Eh beh ragazzi È palesemente una scelta Cioè non è Che lo fanno perché non sono capaci È proprio una scelta Questo lavoro A livello produttivo di Ubisoft Speriamo 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 cecchino doppietta bene mi piace molto questa modalità divertente mi sembra un giusto modo per salutarci e per darci appuntamento poi a settimana prossima che non so bene cosa farò e quando lo farò per scoprirlo vi anticipo già che dovrete seguire il sito di EvryEye perché io ora come ora non posso darvi nulla quindi state dietro le news sul sito e la programmazione che trovate aggiornata di giorno in giorno qua sotto nella descrizione del canale sei in vantaggio ah che bello ero convinto di essere rosso ancora fantastico li sono passato a fianco al tipo no mi faccia proprio vi ho sparato quello là sei in vantaggio hai perso il comando dai anche questo l'ho in testa non so perché non l'ho preso doppia uccisione sei in vantaggio il miglior fps secondo me su console adesso come adesso è assolutamente Halo senza ombra senza ombra di dubbio a metà dell'opera hai perso il comando l'ho preso Non ti fai angliato, non ti fai angliato, il titolo inglese è solo per essere più chiaro di cosa stiamo a giocare durante il stream Ok, non ti fai angliato, non ti fai angliato Ah, merda Squadra nemica vicina alla vittoria Fucile di precisione in ricarica Questa mappa secondo me non è molto adatta a questa modalità Io sto girando da mezz'ora Mamma mia Eh, l'avevo preso Oh 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 no. Oh no. Oh no. Maledizione. Maledizione. Non so ancora quando e cosa farò settimana prossima per quello il consiglio è quello di rimanere sempre aggiornati con la programmazione e di schiacciare il tasto follow per sapere quando il canale sarà online per le trasmissioni che riguardano me ma anche tutte le altre. Quindi la novità da rio bianchi che ritornerà domani le solite live di francesco andrea insomma qualsiasi cosa io vi do appuntamento appunto alla prossima vi auguro un buon weekend e oggi più che mai che la forza sia con voi. Ciao ragazzi.